Sinceramente noi oggi volevamo vincere, all'inizio partita eravamo sicuri di vincere questa partita, ve lo dico, quello che abbiamo parlato dentro. La Roma ha fatto una bellissima partita, non devo togliere i meriti della squadra, però sì è vero, oggi è un punto guadagnato. Ero in campo, ero girato, non so niente di quello, magari dopo andrò a vedere e posso esprimermi meglio. Qual è che ti ha messo in più a tagliare? La pressione esercitata dalla Roma, perché la Roma è venuta a prenderci su, non ci ha fatto uscire dalla difesa con la costruzione, purtroppo questa è la verità. La Roma è stata una squadra molto aggressiva, più aggressiva di noi. Qual è il tuo pensiero guardando la classifica? L'Inter potenzialmente è sotto, la Roma adesso a meno sette. È una bella cosa questo, il pareggio contro la Roma li tiene ancora a sette punti. Abbiamo visto pure oggi l'Inter che ha pareggiato in casa. Siamo lì e lotteremo fino alla fine di rimanere lì. Siete subito il contrapolto psicologico della scontetta di Napoli, avete perso un po' della magia dell'ultimo mese? No, sinceramente no, perché lì abbiamo fatto una bellissima partita. Magari giocavamo come oggi a Napoli, potevamo parlare di questa, però a Napoli io penso che la squadra ha avuto una bellissima prestazione e meritava di vincere. Per te oggi era il diciannovesimo derby in campo, altri dieci l'hai vissuto da fuori, ormai sei quasi più romano che romano. Sì, queste sono delle partite che non ti fanno dormire, ve lo dico sincero, un paio di giorni prima.